È difficile, molto difficile tornare a parlare di Samp, specialmente dopo una partita come quella di ieri. Una trasferta che è stata amarissima, una trasferta molto molto fredda, una trasferta che nonostante ciò rifarei milioni di volte. Dobbiamo però analizzare una partita che purtroppo ci ha detto tante cose negative. Un saluto a tutti gli amici del Cornel Sampdoriano, come al solito prima di iniziare l'analisi, pollicione in su, commentate, vogliamo sapere la vostra qui sotto nei commenti. Cornel-Sampdoriano per rimanere aggiornati anche su Instagram. Detto questo partiamo con l'analisi di Brescia 3 Sampdoria 1. Ora, premesse, l'analisi di oggi sarà molto più breve rispetto alle altre perché di cose da dire ce ne sono poche e sono molto chiare. Nel senso che mi aspettavo una prestazione ben diversa, non mi aspettavo una vittoria onestamente ieri, mi aspettavo però una Sampdoriano leggermente più sul pezzo e non chiedevo la luna. Abbiamo visto una Sampdoriano che invece è crollata dal punto di vista psicologico. Abbiamo rivisto una Sampdoriano tatticamente, non dico ora psicologicamente, tatticamente molto molto fragile. L'abbiamo notato sin dai primi minuti, è arrivato il gol, il primo gol sul secondo palo. Un classico, lo prendiamo dai tempi di Giampaolo per cui non mi stupisco, mi stupisco molto del secondo gol di Borrelli. Che qualcuno diceva che non serviva una punta perché De Luca si riprenderà in questo momento. De Luca purtroppo non è presentabile in un camionato del genere. Borrelli che prende, se ne scarta 4, sembrava Maradona, passa in mezzo a 4 e segna il gol del 2-0 vincendo anche più di un rimpallo. In questa giocata vediamo una cosa che tanti calciatori della Sampdoria non hanno, o al meglio ieri non hanno dimostrato. La cattività agonistica, che è una cosa che in Serie B fa la differenza e a mio avviso dobbiamo ancora imparare questo. Poi il terzo gol, che è un qualcosa di assurdo, un gol che nasce da una palla persa dalla Samp, bisogna tre quarti comunque nella metà campo avversaria. E avete visto voi il centrocampo? Perché io non ho visto nessun ripiegamento, ho visto solamente un buco di 20 metri tra centrocampo e difesa, ripartenza, contropiede, 3-0. Così si gioca in Serie B. Il Brescia ieri ha giocato una partita, secondo me, spettacolare in livello tattico. Una squadra che ha saputo sfruttare al meglio gli errori della Samp. Poi io non ci vuole tanto vincere con questa Samp, sono il primo a dirlo. Però la Serie B è così. Abbiamo battuto un Modena che secondo me è battibilissimo, l'abbiamo fatto al nostro. Col Palermo hai rischiato? Io mi aspettavo un po' più di consapevolezza, non nei propri mezzi. Nel senso, hai battuto il Palermo, il Modena e lo Spezia. L'hai fatto giocando da squadre di Serie B. Ieri hai avuto magari un po' più il pallino del gioco nei primi minuti, hai perso palla. Io speravo che i giocatori avessero imparato a gestire i momenti della partita. Ieri abbiamo avuto la prova che questi giocatori, almeno ieri, non abbiano saputo leggere determinati momenti. A livello tattico, praticamente tattico, c'è poco da dire. Una squadra che è sempre stata lunga, c'è una distanza tra le parti assurda. Abbiamo visto un ripiegamento, la solita palla persa, passiamo da transazione positiva, negativa, davvero in una maniera pessima. E in questo momento sono abbastanza preoccupato. Non bisogna assolutamente creare troppi allarmismi, perché comunque c'è una partita da giocare sabato ed è molto delicata, ovvero quella con l'Ecco. Iniziamo a perdere tasselli importanti, perché abbiamo visto che Borini, seppur non facesse grandi cose, comunque a livello tattico creava un fattore di imprevedibilità, ed è quello di cui parliamo da agosto. Peccato, ora però c'è anche da dire che ieri mancavano tasselli importanti, lo stesso Borini. Pedrola doveva rientrare, non l'abbiamo avuto. Benedetti doveva rientrare, anche lui, non l'abbiamo visto. Murru, l'unico convocato di questi tre che dovevano rientrare, ma anche lui non è entrato. È entrato Askelsen che, io voglio bene, ma anche ieri, prestazione indecente purtroppo. Per cui bisogna assolutamente agire, in qualche maniera, a livello tattico, bisogna lavorare tantissimo. Ma, soprattutto, con il mental coach Roberto Recchi, nelle scorse settimane, ha dimostrato di essere una persona che ne sa. Sono curioso di vedere adesso quale tipo di crescita potrà attuare la Samp. Le sconfitte servono anche questo. La trasferta di ieri ne la conferma, per cui sono curioso di vedere come crescerà questa Samp, se crescerà questa Samp. e diciamo che, in breve, non dobbiamo essere troppo pessimisti, non dobbiamo cercare di mettere troppa negatività addosso a questi ragazzi che, nelle scorse settimane, hanno dimostrato di aver un minimo capito in che categoria si trovassero. Poco da dire, a livello di singoli. L'unico che si salva, non tanto per le prestazioni, ma per i gol è Giordano. Non per il gol in sé, che è bello, ma per l'esultanza. È venuto con una rabbia ad esultare quasi verso il settore ospiti. Come dire, ok, stiamo perdendo, però io ho segnato il primo gol con la maglia che tifo da bambino. E quella è stata la cosa più bella di ieri, secondo me. Sono molto contento di avere un ragazzo come lui in squadra, sono molto contento di non avere questi capelli. Sono molto contento, comunque, di quello che sta diventando, che è un ragazzo che, secondo me, deve lavorare molto a livello tattico, diciamo, in settimane, ma sotto il punto di vista agonistico, sotto il punto di vista dell'attaccamento alla maglia, è un tifoso, per cui è quello che ci aspettavamo. Un ragazzo che difficilmente sbaglierà sotto quel punto di vista deve migliorare, siamo d'accordo, però diamo tempo a questi ragazzi. Per cui cerchiamo di non andare addosso alla squadra, cerchiamo di accompagnarla verso una partita come quella di Lecco. Eravamo in una fase di crescita, ripeto, sono convinto che queste sconfitte servano ancora di più a crescere, per cui cerchiamo di rimare tutti dalla stessa parte. Non farò l'analisi di singoli, come potete capire, perché ci sarà poco da dire. Ieri, ripeto, l'unico che si salva è Giordano. Speriamo, quindi, di preparare al meglio la partita contro Lecco, che a questo punto diventa fondamentale. E poi, quelle dopo, sicuramente ci sapranno dire di che pasta è fatta questa Sampdoria. Come al solito, pollicione in su, se il video vi è piaciuto, commentate e iscrivetevi, Corner-Sampdoriano su Instagram per rimanere aggiornati. Da Mattia è tutto, da Corner è tutto, sempre Forza Sampdoria.